Ma tutto questo non avviene contro Salvini, almeno non è un golpe o nulla di simile. Semplicemente, è la presa d'atto che, nel momento in cui si identifica completamente un partito con il capo e con il corpo del capo, esattamente come è capitato con Silvio Berlusconi. La desalvinizzazione, della Lega, stavolta, avviene con il beneplacito dello stesso Salvini. E si declina in vari modi, rumorosissimi per un partito che dell'identificazione totale con il leader ha sempre fatto il suo punto di forza. Lo fece quando nel simbolo elettorale spuntò per la prima volta a caratteri cubitali il nome di Umberto Bossi, ma pure sempre subordinato all'obiettivo della stagione politica leghista. E quindi la Lega prima era Lombarda o Veneta o delle altre regioni, in termini leghisti, nazioni, costituenti la federazione. E poi diventò Lega Nord e poi Lega Nord Padania indipendente o per l'indipendenza della Padania, va a seconda di come si voleva declinare l'obiettivo fra Camera e Senato. Poi, prima con le politiche del 2018 che sfociarono nel governo giallo-verde, il conte 1, e poi con le elezioni europee del 2019, il cambio definitivo di nome e di passo. Di ogni riferimento al nord della Lega, anche nei gruppi parlamentari, che diventa, Lega Salvini, mantecata di partito sardo d'azione a Palazzo Madama, con la presenza nel gruppo di due senatori sardisti, prima Christian Solinas e poi Carlo Doria, eletto alle suppletive nel collegio uninominale di Sassari Nord Sardegna. Le europee, per l'appunto, sono stato il punto più alto di tutto questo, con il 34% dei voti, più di un votante su tre, e l'elezione di 28 eurodeputati, alcuni dei quali poi persi per strada che portarono il gruppo guidato da Marco Campomenosi di persona moderata e per bene, ad essere il partito più votato dell'intera Unione Europea, nonostante l'alleanza con forza estremiste che siedono insieme ai leghisti nell'eurogruppo di identità e democrazia che moderati non sono. Insomma, erano i tempi in cui Matteo Salvini sembrava remida, destinato a trasformare in oro tutto ciò che toccava. Grazie.